Sembra sempre più vicino al fallimento del CLIR, il consorzio pubblico della raccolta rifiuti in Lomellina. L'assemblea di sabato, che avrebbe dovuto votare il bilancio 2019, chiuso con una perdita di circa 600 mila euro, si è conclusa con l'ennesimo rinvio, ma questa volta è per andare dal prefetto a chiedere cosa succederà all'indomani di un eventuale decreto di fallimento. La raccolta dei rifiuti infatti è un servizio da garantire qualunque sia il destino di CLIR. La vicenda viene seguita con apprensione dai 50 lavoratori dell'azienda che sabato si sono ritrovati in presidio davanti alla sede di Parona per chiedere alla politica di risolvere il problema. Lo stato d'animo del lavoratore è di forte preoccupazione, di forte preoccupazione rispetto a una situazione economico-finanziaria del CLIR che come ormai tutti sappiamo è di forte debito, si parla di qualche milione di euro, per cui abbiamo la necessità sostanzialmente di fare chiarezza rispetto alla gestione, rispetto a questa situazione debitoria di forte esposizione. La richiesta qual è? La richiesta nostra è semplicemente quella di mantenere un servizio pubblico, quindi che si facciano delle scelte ben precise da parte della politica per cercare di arrivare a un percorso condiviso anche attraverso il nostro contributo che possa salvare il servizio pubblico. Oltre 40 anni di storia non si possono cancellare. La situazione del CLIR, i cui azionisti sono i comuni della Lomellina, è precipitata nel corso dell'ultimo anno dove si è scoperchiato un vaso di Pandora da cui sono usciti problemi ben lontani. Gli stessi sindacati hanno avuto la percezione di quanto fossero gravi i problemi solo negli ultimi mesi. Anche questo continuo a rimandare il bilancio, ad esempio, è stato quello che ci ha fatto suonare un po' il campanello d'allarme e ci ha portato poi nell'ultimo anno ad avere sempre più informazioni che alla fine ci hanno dimostrato quello che è successo in questo periodo. La palla è tutta in mano ai sindaci, come del resto lo è sempre stato in tutti questi anni. Chiediamo una sensibilità da parte dei sindaci, che sono i soci proprietari dell'azienda, di approvare il bilancio e procedere poi con gli altri adempimenti ai fini di rilanciare e salvare il CLIR e questa realtà che esiste da 40 anni unitamente ai 50 posti di lavoro. In timore dei lavoratori è che la vicenda si risolva facendo fallire il consorzio e appaltando il servizio di raccolta rifiuti ai privati con tutte le conseguenze del caso. Noi questa settimana abbiamo inviato delle lettere proprio ai sindaci soci, dei comuni soci del CLIR. Abbiamo inviato queste lettere, non abbiamo onestamente ricevuto risposta, ma sostanzialmente il nostro scopo è quello di sensibilizzarle sul tema. Quindi la richiesta che facciamo è di fare delle scelte consapevoli rispetto al fatto che il CLIR è una società del territorio e qui deve rimanere, rispetto al fatto che comunque il servizio pubblico deve prevalere su altri tipi di scelte.